vai io mi li ho comprato davanti, abbassala bravo cazzo vai ma Scindava dov'è Ciri Dio caro l'ho uscita a casa abbiamo già finito ma questo non poterlo cadere là qua non gli erano per i coglioni no 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 Zampini dove la tua arma segreta? e qua c'erano già in mano va a tagliarlo poi sta riprendendo lui chi sta riprendendo? ah si, non mi ricordo mai sta già riprendendo lui con la telecamera bravo quello lo lasciamo quello lì lo sforziamo? no lascialo quello tira il giù Ciri vai sento che facciamo fatica vai vai lo tiriamo verso di noi bisogna alzarlo alzarlo un po' in due in tre in cinquanta la famiglia su aspetta uno due tre uno uno due cionino qua passiamo dai lo tiriamo lì non si attaccava che va giù in basso uno due tre uno due è partito uno due tre è andato lascialo lì se va giù meglio lascialo lì almeno va giù perfetto Aldo non salire sopra Aldo non salire